quindi oggi è una bella giornata sta iniziando la stagione calda quindi ci è più caldo quindi Bebi adesso si va a comprare il latte e poi dalla ragazzina alla loro scuola Bebi felicissimo e adesso andiamo a comprare il caffè il latte e il il nostro preferito sugar lo zucchero prendiamo questo oh I love my candy 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 I love candy I love candy I love candy però c'è un qualcosa in più oggi perché c'è il nostro cucciolo io Bebi cosa hai trovato? la crema proprio la crema della crema siamo qua bebi cioè dimple che esco the milk for the Bebi yeah quindi stiamo decidendo la pizza hawaiiana vuol preparare Bebi che ve l'avevamo promessa qualche tempo fa quindi per la ricetta di Debi ci vogliono Funghi quindi l'ingrediente segreto di Debi cioè la l'ananas l'ananas quindi c'è l'hawaiiana classica quindi adesso stiamo scegliendo il sugo e poi abbiamo deciso di prendere gli immancabili intramontabili spaghetti quindi abbiamo scelto questo tutto il formaggio quindi c'è anche questa di pasta poi abbiamo deciso di confermare questa stiamo decidendo di andare in una casettina che dice che c'è che si mangia e costa poco quindi dimple she wants the chips so we are choosing quindi stiamo scegliendo le patatine quindi queste sono ultime guarda questa è la carina come 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 allora andiamo che ti piace genicchia wow wow No, no, non solo qui. No, no, non solo qui. Quindi Alessio dobbiamo scegliere il latte. Ogni volta è un calcolo matematico precisissimo. Allora, come vediamo? Ha preso bene, cosa ha preso? Dobbiamo fare in fretta perché dobbiamo andare a prendere, sai, dalla scuola. Guarda quanta gente è qua. Bravissimo, Debbia ha trovato anche il latte. Un bambino? No, 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 no. E ora prendo questo. E' un bambino, è molto felice. E' molto felice. Quindi abbiamo fatto la spesa. Adesso andiamo dalla ragazzina a Psi Quindi abbiamo anche nostro. Come ci sono? È un'altra cosa? È un'altra cosa. E' un'altra cosa? E' un'altra cosa. E' un'altra cosa? È un'altra cosa? È un'altra cosa. Allora mi viene in terzymare. È un'altra cosa. è la prima volta che vado in una scuola in filipina che bello guardate che bravi ragazzi e abbiamo trovato anche un fan dell'italia come stai? Ok, adesso andiamo a prendere la ragazzina allora questa è la scuola in filipina guardate quanti ragazzini che ci sono ehi, ciao saluto ecco aspettate perché io a debbile a perdere ciao ciao qua tu ci andavi? quindi sai quindi è la stessa professoressa di mia moglie eccola qua è piccola il mondo ora ora facciamo la foto ok 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 ragazzi abbiamo incontrato i professori di debbi c'è una roba che non mi aspettavo manco se me lo dicevano non ci credevo capito e siamo andati abbiamo visto la classe di debbi e le professoresse di inglese matematica e studia wow ok perché pensate che la vita magari non ha senso invece il senso magari è le emozione che provi quando fai la esperienza quindi è una esperienza dopo l'altra con tempo è un senso di un esperienza per un avvento per un altro che mi sentiamo molte emoti sì ok ho messo meno spremiare in il video quindi è più di più bene ok 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 quindi shout out to all the class of sight it says that we have arrived ok so we have found a restaurant, there are the calamari and we are going to pick up inside it's fresh, it's fresh and the baby what do you want to do? it's fresh, it's fresh hot what are you doing? what are you doing? Sì, 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 sì. Che specialità che ci hanno fatto oggi, questa si chiama Special Mami, guardate come fanno qua, poi ci abbiamo, patatine, fantastici voltini primavera, con tutte le salsette. quindi è stato un pranzo buonissimo una giornata splendida ci siamo andati anche nella classe di Psyche col bambino che è la prima volta che è venuto con noi al supermercato quindi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao